buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 22 giugno 2023 siamo pronti con l'almanacco del giorno vediamo subito chi si festeggia oggi il santo del giorno è san paulino di nola san paulino nacque a bordeaux in francia nel 353 e morì a nola di cui dove fu fatto vescovo e quindi fu una località molto amata dal presole del 431 morì nel 431 fu un segnatore ma ben presto abbandonò la sua carica politica per occuparsi dei poveri a cui diede tutte le sue sostanze dalla chiesa pensate è ritenuto il patrono dei campanari perché a lui è attribuito l'uso della e delle campane ai fini ecclesiastici quindi san paulino quando sentite magari un suono di una campana pensate a lui fu un santo molto amato dai poveri che lui ovviamente amava vediamo le previsioni del tempo ecco le previsioni vediamo qualche nuvoletta ma in sostanza sarà ancora oggi una giornata di sole qualche velatura ma la nota saliente sarà il picco del caldo africano che arriverà dicono i giornali questa mattina sui 35 38 gradi in pianura sostenuto scirocco invece sulle coste i venti ispireranno da una direzione di sud est mentre nell'entroterra da sud ovest e le temperature dicevo sono molto molto alte il mare non sembra che sia mosso ma questo lo verifichiamo con il nostro bagnino dei bagni Alda di Ponte Sasso buongiorno 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 è vero che il mare è calmo stamattina guarda è una cosa tranquillissima una cosa tranquillissima serena faccio fare un saluto anche dal mio collega ecco qua una tavola proprio si 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 è veramente si potrebbe andare con la canoa sul filo d'acqua senti abbiamo visto un mezzo meccanico che sta facendo in spiaggia sì noi tutte le mattine io e i nostri colleghi abbiamo tutti un trattorino facciamo il livelemento e la pulizia della spiaggia e per far trovare i clienti chi fa anche le passeggiate togliamo i sassi dalla riva togliamo bastoni che muta fuori il mare queste cose queste ho capito quindi una pulizia costante tutti tutti i giorni per dare diciamo che la spettiniamo ho capito bene Marco stamattina ci lasciamo perché abbiamo diversi collegamenti in combo soprattutto i nostri ragazzi che stanno sostenendo gli esami di stato voglio chiederti un'ultima cosa c'è chi appunto propende per una professione universitaria eccetera che cosa ti ha consigliato di fare il bagnino è da 64 che abbiamo lo stabilimento balneare perciò ho portato avanti il lavoro dei miei genitori ho capito la cosa poi questo è il lavoro più bello che ci possa essere la gente paga per venire a fare quello che faccio io penso che sia uno dei lavori più belli stai al mare in ciabatte quindi si può dire che sei cresciuto proprio in spiaggia da quando eri piccolo insomma sono stato concepito su un lettino sicuramente perché sono andato in aprile perciò non si sfugge c'ho la sensazione delle vede non c'ho il sangue benissimo e devo dirti che vederti al mattino in questo bel contesto tra l'oro della spiaggia e il cielo azzurro veramente fa bene al cuore e ci permette di iniziare bene la giornata grazie grazie per quello che fai grazie ed ora buona giornata a tutti ciao ciao ed ora passiamo alle notizie del giorno vedendo sulle Corriere Adeatico l'apertura sulla pagina di Fano si parla delle primarie rispondendo all'invito che nei giorni scorsi l'assessore Samuele Mascherin ha rivolto al centro-sinistra le forze politiche del centro-sinistra le elezioni amministrative del 2024 non sono così lontane manca ormai meno di un anno e quindi bisogna attivarsi secondo appunto l'assessore e ha invitato le forze del centro-sinistra a procedere con le primarie piuttosto che individuare temi e candidati a tavolino nel chiuso di una stanza magari da parte di pochissime persone invece invitando tutta la cittadinanza sia cittadini di destra che cittadini di sinistra ad individuare un possibile candidato questo avrà più possibilità di vincere entusiasti di questa proposta i minardiani possibilisti il resto del Partito Democratico e il fronte civico c'è il no invece di Ribella che flirta con il Movimento 5 Stelle ci sono diverse prese di posizione in merito a questa problematica oggi sul Corriere Adriatico vediamo che risponde Federico Perini del Partito Democratico è un consigliere comunale dice non sono l'unico strumento utile per individuare il miglior candidato sindaco dice Perini a meno che non siano già state prese decisioni in stanze segrete di cui non sono a conoscenza parla anche Agnese Giacomoni che è la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale che appoggia senza riserve la proposta di Mascherin le primarie dice sono l'unico modo per riprendere le fila del discorso politico nel centro-sinistra di Fano sono fondamentali è davvero fatico a capire le ragioni di chi si oppone di chi appunto oppone resistenza dialettica l'assessore Cora Fattori che è una rappresentante del civismo fa parte delle liste del sindaco Massimo Seri le primarie gli dice possono essere una opportunità oppure un inciampo la differenza sta nella intelligenza delle persone ovviamente come tutte le cose il rilancio delle primarie è deludente e divisivo e divisivo invece per teudoso auspici della lista civica ribella l'unica novità è una pur legittima raccolta di firme una forzatura da parte di chi si sente ormai all'angolo che però esce male dal sacco in cui si è infilato da solo vedete come un po' il centro-sinistra è ancora diviso in merito a questa proposta proposta che è stata lanciata dall'assessore Mascherin e sostenuta con una raccolta di firme che verrà appunto così pubblicata che verrà divulgata nei prossimi giorni l'obiettivo è raccogliere mille firme per indurre appunto le forze del centro-sinistra a organizzare queste primarie e vedremo se la cosa andrà in porto Parliamo del Festival Passaggi che ieri è iniziato subito con grande affluenza di pubblico nei diversi punti in cui si sono tenuti i primi incontri ma in realtà sarà oggi il giorno dell'inaugurazione nel palco centrale di piazza 20 settembre Passaggi il premio barbato a Lucia Annunziata la nota giornalista sarà presente a Fano oggi e riceverà questo grande riconoscimento per la sua carriera giornalistica l'inaugurazione è prevista oggi questa sera alle ore 20.30 in piazza 20 settembre il premio Andrea Barbato ha ricevuto il patrocinio dell'ordine dei giornalisti e verrà attribuito a Lucia Annunziata che avrà anche il compito di aprire libri in piazza presentando il suo libro dal titolo L'inquilino da Monti a Meloni indagine sulla crisi del sistema politico la serata sul palco centrale prosegue poi con la presenza di Oscio agli ass Federico Palmaroni Palmaroli che presenterà come dice cosa un anno di satira mentre alle 23 sarà la volta di Pietrangelo Buttafuoco che in prima nazionale illustrerà i contenuti del suo libro dedicato a Berlusconi il titolo è Beato Lui Panegirico sull'arcitaliano Silvio Berlusconi e poi ci saranno anche tutte le altre iniziative nei diversi palcoscenici della città ieri per esempio molta gente ha affluito il chiostro delle Benedettine dove c'era Zamagni il noto economista bolognese e anche il bastione Sangallo dove il giornalista Luciano Murgia ha presentato il suo libro sulle cinque volte che è andato che ha percorso il cammino di Santiago veramente un'esperienza emozionante vediamo di un'altra iniziativa si tratta di un'iniziativa che è stata presentata ieri mattina nella Rocca Malatestiana è un'iniziativa dell'ambito sociale numero 6 si chiama torno entro le 6 ebbene è un programma di manifestazioni di eventi dedicati ai giovani per promuovere il benessere dei giovani e ovviamente prevenire anche le devianze si tratta di iniziative proprio dedicate ai giovani quindi connaturate ai loro desideri l'obiettivo è quello di incentrare di incentivare scusate il benessere e le occasioni di incontro tra giovani attraverso le organizzazioni di iniziative che favoriscono il loro coinvolgimento il programma contempla la seconda edizione dell'ambito music contest un concorso musicale rivolto ai giovani emergenti solisti o band tra i 16 e i 35 anni residenti nei comuni d'ambito e poi qui c'è anche una novità la novità è quella del DJ contest un secondo concorso destinato a tutte e a tutti i DJ tra i 18 e i 35 anni di ogni genere e mezzo musicale c'è il contest ovvero il concorso la competizione tra questi DJ che arricchierà ancora la partecipazione di coloro che vorranno esprimere un giudizio tra chi è più bravo e appunto più vincente e poi ci sono tante altre iniziative ci sono anche i laboratori che vengono organizzati c'è anche il concorso di altre associazioni opera c'è quello del Don Orione insomma una bella iniziativa per trattenere poi i giovani nella nostra località e poi abbiamo questo bellissimo articolo che riguarda dico bellissimo perché ricorda un po' l'infanzia la giovinezza ovvero il Monopoli il Monopoli è un gioco che ha invaso un po' tutto il mondo è nato in America nel 1935 se non vado errato e da lì poi appunto è dilagato in tutto il mondo tant'è che sono oltre 100 i paesi in cui il gioco è presente ebbene tra questi c'è anche Fano Fano perché c'è una edizione del Monopoli che riguarda tutta Fano vi ricordate le vie del Monopoli via della Stazione via della Vittoria eccetera ebbene questa volta ci sarà via Arco d'Augusto via Puccini Corso Matteotti eccetera cioè è un gioco dedicato a Fano dove tutte le vie dove poi anche le cartelle degli imprevisti e delle possibilità ebbene tutto quanto riguarda Fano ed è un incentivo in più per giocare a tavolino magari anche durante le serate d'estate il gioco è stato presentato ieri dall'amministrazione comunale lo ha realizzato lo spazio Conad del centro commerciale Fano Center appunto dove sarà in vendita al prezzo di 29 euro e 90 centesimi è una promozione soprattutto per la città nei confronti dei turisti e poi anche un divertimento per i fanesi e poi vediamo questo articolo di spalla perché oggi iniziano il giovedì della confraternita una serie di incontri su diversi temi che animerà tutto il mese di luglio agosto fino all'inizio di settembre si tratta di temi interessanti temi di archeologia di stretta attualità verranno svelate le dimore storiche tutelate fino ad oggi dal riservo privato si parlerà di opere d'arte delle tradizioni popolari nascoste nelle fodere della città vecchia pensate e poi ancora di dialetto delle iniziative assunte per preservare questa lingua che dà voce alle antiche usanze ebbene poi ci sono molti personaggi noti che saranno relatori a questi incontri inizierà Oscar May il noto archeologo direttore scientifico del centro studi Vitruviani che parlerà dell'antica Fanum Fortuna e poi abbiamo il poeta Elvio Grilli Sergio Schiaroli che parlerà della città che cambia abbiamo poi il priore del convento di Santa Maria Nuova padre Giancarlo Mandolini che parlerà di Dante nelle Marche e parlerà anche del Perugino e poi il conte Lupo Bracci l'architetto Francesca Madei e la guida turistica Manuele Palmucci che parleranno dei palazzi storici e delle famiglie nobili della città insomma ci sono diversi esponenti ricordo anche Claudio Giardini e poi anche l'architetto Remigio Bursi e l'ex sindaco Aldo Dalvini che interverranno su diversi palazzi appunto sono iniziative interessanti non solo per i turisti ma soprattutto per i fanesi che di solito guardano la città con un fare distratto in realtà conoscere quello che si nasconde dietro le facciate delle case è veramente interessante e curioso e distruttivo per conoscere e apprezzare la storia della città cambiamo la pagina siamo a Fossombrone a Fossombrone il presidio dell'emergenza operativo presso la sede della Croce Rossa fa sì che si raddoppia la struttura di Fossombrone che ospiterà sia il centro operativo comunale che il centro operativo misto quello che è gestito dalla prefettura in caso di emergenza a Pergola tra bellezza note e amore la notte diventa romantica sabato un bellissimo appuntamento a Pergola e a Mondavio sono le due località che hanno aderito a questo progetto ci saranno concerti diffusi nei vicoli del centro una notte romantica nei borghi più belli d'Italia è quello che questo progetto si prefigge di proporre ai cittadini a Pergola il sipario si alzerà alle ore 17 con l'inaugurazione della mostra scultorea di Andrea da Montefeltro il leone del nuovo orizzonte e poi ci sarà una piacevole passeggiata nel centro storico un gustoso aperitivo per godere in tutta tranquillità le iniziative proposte durante la serata dalle 20 alle 23 si potranno visitare palazzi e chiese che saranno aperte sarà possibile visitare diversi siti culturali d'arte accolti da un viaggiatore volontario del proloco a Mondavio invece si parterà alle ore 18 con l'accoglienza dei partecipanti alla rocca roveresca con un benvenuto danzante delle ancelle del gruppo storico tutto una chiave romantica una chiave dolce poetica che con il tramonto di queste serate infuocate con il sole rosso che come una palla incandescente scende dietro le nostre colline è veramente bello e insomma è poetico così possiamo definirlo abbiamo anche una notizia un po' così di seconda pagina che appare oggi sulla edizione di Pesaro del Corriere Adriatico che riguarda Senigallia ma in realtà più che Senigallia riguarda Corinaldo sulla pagina di Senigallia la BCC è andata in gol che show nel calcio a 5 la squadra è stata protagonista anumana del torneo del credito cooperativo vediamo anche qualche notizia sulla pagina di Pesaro dove si apre con tutti i programmi tutte le iniziative che riguardano la capitale della cultura tra cui spicca l'apertura della Rocca Malatestiana bene a che punto siamo per il godimento di questo monumento sono circa 7 milioni che complessivamente lo Stato investerà per il recupero di Rocca Costanza un anno fa c'è stato l'accordo integrativo tra Comune Agenzia del Demanio e il Ministero della Cultura la Rocca dovrà ospitare l'archivio di Stato il Museo Dario Fo e Franca Rame e spazi per eventi e spettacoli nel cortile interno una volta messo in sicurezza il cortile potrà arrivare a ospitare fino a 200 persone comunque l'intervento dovrà essere ultimato entro il 2025 ma chissà che qualcosa non si faccia entro il 2024 quando Pesaro appunto è il capitale della cultura vediamo ora il resto del Carlino sulla pagina di Fano si apre con la conclusione delle indagini per il delitto di Anastasia vi ricordate quante pagine di giornali ha occupato questa vicenda terribile che si è verificata a Fano dove una giovane ucraina è stata uccisa dal suo compagno il marito che l'ha accoltellata Alashri è un egiziano maltrattava anche il bambino così è venuto fuori dalle indagini alla fine alla conclusione delle stesse il marito della 23enne ucraina è accusato di omicidio occultamento di cadavere e mancato avversamento dei mezzi di sussistenza ebbene l'articolo espone un racconto di violenze domestiche un racconto di maltrattamenti di botte e anche di atti inconsulti come quello di abbandonare il bambino e far sì che la donna precipitasse si precipitasse veramente verso il punto in cui era il figlio letto ma a questo punto vediamo anche un articolo che riguarda gli esami di Stato lo vediamo qui sul resto del Carlino maturità nel segno di Whatsapp Almamiani la beffa ragazzi multati beh prima di vedere il senso di questo articolo diamo un'occhiata a come la situazione con un collegamento con Pesaro pronto Marco ci senti? buongiorno Massimo bentrovati dal campus qui a Pesaro è il giorno della seconda prova per quanto riguarda l'esame di maturità 20-23 anche oggi si partirà alle ore 8 e 30 ma la seconda prova di maturità ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo dunque si va avanti procede l'esame di maturità ma quest'anno c'è una piccola novità per quanto riguarda la seconda prova scritta che riguarda gli istituti professionali a tal proposito questa mattina abbiamo intervistato il professor Mauro Olivetti commissario interno dell'ipsia Benelli qui a Pesaro quindi scopriamo insieme questa novità nell'intervista che segue c'è una novità che riguarda la seconda prova anche cosa consiste allora la seconda prova sostanziale che oggi non aspetteremo che ci arriverà il plico telematico i giorni scorsi noi abbiamo formulato la nostra proposta riguardante tre prove che verranno poi sorteggiate stamattina prima dell'insediamento dell'inizio della prova la differenza sostanziale è che la commissione stessa ha stilato una propria proposta in base all'indicazione ricevuta dal ministero martedì mattina quindi il ministero in base alla nuova normativa ci ha dato il quadro di riferimento e i nuclei tematici in base a questi la commissione ha formulato tre proposte che verranno poi sorteggiate questa mattina all'atto dell'insediamento della commissione dunque lo avete sentito è una novità che riguarda la seconda prova scritta per quanto riguarda gli istituti professionali ma c'è anche una piccola curiosità prima di ridarvi la linea perché il secondo scritto dopo tre anni di pandemia torna ad essere nazionale nel senso che viene definita dal ministero dell'istruzione tra le discipline caratterizzanti il corso di studio quindi questa era l'ultima curiosità per quanto riguarda la seconda prova dell'esame di maturità 20-23 ovviamente questa sera nel telegiornale vi racconteremo insomma come è andata come sarà andata insomma la giornata buona giornata a te Massimo e a voi la linea grazie grazie per questo collegamento ci fa un po' così rivivere la situazione di quando eravamo ragazzi quindi partecipiamo emotivamente anche all'impegno dei nostri giovani giovani dicevano che sono stati multati ieri alla fine dell'esame perché hanno trovato una multa sul loro motorino avrebbero parcheggiato il proprio veicolo in modo da impedire ad un automobilista disabile di accedere allo stallo dedicato appunto con le strisce gialle ad una sosta protetta e quindi vabbè insomma comunque più che la multa prevale poi l'emozione dell'esame e presto si dimenticherà una mentre si ricorderà benissimo l'altra siamo ancora sul resto del carlino volevo ripartire dalle notizie di Fano variante palla al prefetto delibere da annullare è un ricorso che il movimento 5 stelle intende proporre perché sembra che la delibera che è stata approvata nella seduta straordinaria del consiglio comunale l'ultima che si è tenuta a Fano sulla delibera dell'interquartieri non aveva i fondi che sarebbero stati già persi secondo appunto i 5 stelle intanto la procedura va avanti perché il progetto ha superato la valutazione di impatto ambientale riparte il trenino turistico e andrà a vapore a Pergola sono conclusi i lavori per il ripristino della ferrovia Pergola Fabriano danneggiata dall'alluvione domenica la prima corsa è già sold out pensate quale forza di attrazione ha questa ferrovia voglio concludere la nostra rassegna stampa con un articolo che riguarda Urbino è una bella mostra d'arte con questi poliedri in legno che vengono sparsi per la città è uno dei poliedri installati da Fernando Rusciadelli ex artigiano con l'hobby della falegnammeria ebbene è un gioco geometrico che ricorda un po' gli esercizi del rinascimento quindi si intona benissimo con la città ducale grazie per l'ascolto altre notizie della giornata nel Tg di questa sera dell'ore 20 e 30 occhio alla notizia e noi ci risentiamo domani alle 7 come tutti i giorni grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto